andiamo la lista dopo l'azione del cotton club che già dall'altra parte sfiora subito il vantaggio con cardinali l'italia riesce con una rimessa laterale a tagliare tutto il campo origa dalla distanza sfiora il palo buona occasione verrà l'italia questa rimessa con le mani precisa la rimessa per giordano che stoppa in qualche modo le febbre riesce a andarsi la palla sul destro le febbre non sbaglia come al solito segna lui all'uno zero allo sport city sembrano i passettini de santis che prova a sparare santarelli si frappone vedremo davvero intanto mele prova a stoppare il pallone riesce ad andarsene a novelli che quindi è tornato in campo mele il tacco di le febbre la palla arriva in porta calciata da cardinali con il destro in qualche modo calcalo è riuscito a far filtrai questo pallone di lui torna indietro novelli buona la sterzata del numero 3 il colpo di tacco davvero il pallone per un brutto passaggio passaggio che arriva adesso dalle parti di nolano che prova con un pallonetto se vi calcolo ancora nolano alla fine davanti al portiere la mette dentro per il 3 a 0 si gilla così una buona prestazione nolano si da questo pallonetto per cardinali che prova a servire le febbre la corsa di davide le febbre prova a girarsi c'è dall'altra parte giordano le febbre distanza la palla si spegne sul fondo e arriva infatti il triplice visco il direttore di gara allo sport city finisce 0 a 3 fra alitalia cotton club le reti di davide le febbre cardinali e nolano l'ultimo secondo per la vittoria meritata e ritorno alla vittoria del cotton club la partita di oggi si è dimostrata quello che le squadre c'è quello che eravamo noi e quello che era una che erano loro era un'ottima squadra con giocatori di di categoria con il capitano soprattutto e hanno dimostrato la loro superiorità sul campo e noi abbiamo provato a tenere il gioco però andata così